Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa per fornire un'esatta lettura ai dati sui tumori in regione e provincia, in modo da correggere interpretazioni errate e smentire ricostruzioni allarmistiche. Lo hanno comunicato il direttore di epidemiologia e registro tumori del CRO, Diego Serraino, e il presidente della provincia, Alessandro Ciriani, che si sono incontrati nell'istituto avianese. Allora direttore, i dati che sono usciti hanno un po' allarmato, e quindi? Ma quindi è importante per noi assolutamente chiarire bene il quadro epidemiologico del malattia endoplastica in Floridenzia Giulia, anche nella provincia di Pordenone. Sembra opportuno un incontro, un carificatore, in cui ci sia la possibilità di spiegare bene in realtà quello che è successo. Questo poi fa parte dei compiti istituzionali del registro tumori e del servizio di epidemiologia del CRO di Aviano. Emergerà, credo, che i dati in realtà non sono negativi. Ma assolutamente. Negli ultimi dieci anni di registrazione dell'epidemiologia molto è stato fatto nel malattia endoplastica. È un grande successo avere molte persone che vivono dopo aver avuto diagnosi di tumore da dieci, quindici anni. Quindi la popolazione è molto anziana in Floridenzia Giulia. Questo stato ci sta molto bene con il prendere coscienza del problema sociale, ma del fatto che molti sono guariti, molti lungo spravviventi e quindi la gestione sociale di questa malattia adesso che diventa importante. Non ci devono essere fraintendimenti sull'eziologia o sulle cause dei tumori. Dunque sono emersi dati diversi rispetto a quelli allarmistici usciti sulla stampa. Dati esattamente opposti ad alcune notizie che erano uscite. Dati positivi, dati che parlano di una lunga sopravvivenza. Di fatto oggi avere il tumore non significa avere una condanna a morte. E che dimostra al contrario come c'è stato un grande impegno nei temi della prevenzione e della cura. Che dimostra l'eccellenza dei centri ospedalieri della nostra regione, in particolare del centro di riferimento oncologico di Aviano. Alla conferenza stampa, la cui data verrà definita a stretto giro, verranno invitate anche le istituzioni sociosanitarie del territorio.